Volete sentire una storia? La loro avventura iniziò nel migliore dei modi, con una sbornia. Un villoso nano, molto villoso, dappertutto villoso. Lo faccio e gli faccio. Guarda, non so che idee hai in mente, ma ho lasciato vicino alla porta, quindi non provo a rappare cazzate. Ma tipo, l'Halfling dov'è? Una domanda sorge in tutti noi. Dove cazzo sta l'Halfling? Ranger che prova a scalare. Sì, esatto. Ranger. Sì, roll on di venti per l'equilibrio. Minchia, ma cado ogni volta, però non ha senso. Twinir, tu hai perso contro la casa. Due volte. Non sono magari i più intelligenti, i più calmi, i più forti o i più alti. Hanno superato eroicamente tutte le difficoltà. La schiena del mostro. Ti rianimerò io, cazzo! Cazzo, signori, tu ti voglio bene! Il bargast. Facciamola, facciamo una catena di rianimazione. Colpo di arpione enorme, passare oltre e colpire di lato il giga, il mostro. Dalla stradina si sente che cazzo ridi con l'arpione, so mori tutti, strozzo! Hanno incontrato persone terribilmente affascinanti e carismatiche. Quello sulla destra mi piace. Ti l'ho detto che cosa è successo a me? No. È brutta storia, è brutta storia. Chiedimelo, chiedimelo. Cosa ti è successo? Grazie per avermelo chiesto. Allora, io Gulb, grande sciamano, di clan. Noi non nome, noi non molta fantasia. Mi dica solo chi siete, per carità di Dio. Capitan Branek. Tutto qui, Capitan Branek, punto. E come mai siete qui? Beh, che domande. Andiamo verso il mare. La strada è lunga, eh? Sì. E io odio fare i giri lunghi. Quindi abbiamo passato tutto. Ti lascia da lancio a brade. Alcuni hanno rivelato il proprio passato. Tira giù una mutanda e poi siamo finiti a letto e poi ci ha beccato il padre e poi... sono scappato. E mando in seguito con le asce. È per questo che indossi una gonna? Sei scappato velocemente? Sì, ho preso la prima cosa che mi capitava era la sua. Infatti se vediamo anche un paio di fiorellini sul lato. Ti dà quel... Terrorizza i nemici in una maniera impressionante. Perché poi ti guardano e ti fanno... Perché cazzo quell'anno ha dei fiori sulla gonna? E ora... Come facciamo noi nel clan danico della Whirlpool? Della Whirlpool? No, vi prego! Il tuo clan danico non si chiamerà Whirlpool! Ero il mio disco! Un disco! Metto il mio vento totale! Non si chiamerà il fortissimo clan Whirlpool! E' viaggiato per scoprire che cosa fosse la scintilla. Scappa! Va bene! Ego prende e scappa via! Va bene! Gridando tor- Gridando tornerò a salvarvi! La tua fuga sarà veloce. Però hai abbandonato i compagni. Falle! Ma non tutto è perduto! Uno di loro è scappato e intende tornare a riprendere! Avrà bisogno di mio aiuto! Perché si sa! Tutto è meglio con i pirati!